Ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di noi che usiamo Lightburn. Come vedete sul piano di lavoro c'è il logo del vostro mercoledì, ovvero quella rubrica mensile in cui faccio un video l'ultimo mercoledì del mese in base a quello che voi mi richiedete. Adesso la sigla e poi andiamo a vedere cosa mi avete richiesto. Allora la prima richiesta che vado a farvi vedere oggi è quella di Gabriele Marsano. Gabriele Marsano mi ha chiesto qualche delucidazione sull'offset fill. Ora sull'offset fill avevo già fatto un video un po' di tempo fa per cui metto qua sopra la scheda per poterla andare a raggiungere. Cliccate lì e vedete il video. Però gliene parlo lo stesso anche oggi. Andiamo a vedere. Allora andiamo a vedere come si comporta Lightburn con le due modalità. Come vedete sulla sinistra del teleschermo del video avete il tastierino di Elby Key che utilizzerò quello perché ormai sono talmente abituato che non riesco più a farne a meno. Allora vado a selezionare il cerchio e vado a tracciare un cerchio in questo modo. Poi dopo lo vado a selezionare e lo vado a duplicare. Non ho riportato nel tastierino le funzioni che sono sul tasto destro del mouse perché francamente non ne sentivo necessità. A questo gli vado ad assegnare il livello 3. Quindi abbiamo sul livello rosso abbiamo una velocità di 1440 come anche in quello verde però uno è fill e uno è offset fill. Vediamo come lavora la macchina. Facciamo un'anteprima su quello rosso quindi vado qui sul tastierino e vado a fare la riproduzione del movimento. Praticamente vedete 19.59 il tempo stimato e mi fa dei classici movimenti destra sinistra sinistra destra e mi parte di in basso e me lo riempie tutto fino in cima. Accelero per non dilungarmi troppo su questo abbiamo detto 19.59. Andiamo a vedere invece con l'altro. Ovvero sia con l'offset fill. Ci impiega a 19.40 quindi il medesimo più o meno il medesimo tempo. Riproduco e vedete come lo fa? Lo fa a cerchi concentrici. Quindi praticamente sono due lavorazioni completamente diverse. Riempiono più o meno allo stesso modo. secondo me riempie meglio il fill rispetto all'offset fill ed è una questione di gusti ma anche di lavorazione. Quindi direi che questo argomento lo abbiamo visto e lo mettiamo da parte. Quindi andiamo a chiudere questo e andiamo a eliminare le due sagome, le due forme che avevamo disegnato. Il secondo argomento di cui andiamo a parlare è una sfida, diciamo sfida che mi ha mandato Leo Cambereri che è affezionatissimo a questa rubrica mensile dove mi chiede di tagliare un progetto molto grande che non ci sta nell'area di lavoro per poterlo appunto sezionare e poi per poterlo utilizzare da appendere ad un muro. Andiamola a vedere. Mi sono portato sul piano di lavoro anche il tastierino perché ormai praticamente lavoro quasi esclusivamente con quello e andiamo a vedere cosa possiamo fare. Innanzitutto questo è come vedete devo andarlo a raggruppare però per ora lo lascio così, me lo seleziono tutto, vediamo se perdiamo qualcosa c'è questo, faccio un control per selezionarlo anche quello e poi vado a mettere sul piano di lavoro, mettere sul piano di lavoro una porzione tale che possa andare a tagliarla senza fare dei grossi, dei grossi sacrifici, un po' come a potare una pianta praticamente. Si tratta di una pianta e andiamo a potare una pianta. Allora le difficoltà ci sono perché come vedete se io vado a tagliare questa parte qua io perdo questo. Per cui una cosa che si potrebbe fare è quella di andare a sacrificare il meno possibile delle cose. Quindi praticamente questo mi va fuori e dovrei tagliarlo a questa altezza, questo mi sta dentro lo posso lasciare e questo dovrei tagliarlo in questo modo qua. Quindi proviamo a fare qualche qualche taglio andiamo a fare qualche taglio però forse sono più le cose da fare in questo modo che non andare a utilizzare uno strumento che è le forme di taglio. Quindi abbandonato il diciamo il progetto della potatura così drastica andiamo a utilizzare uno strumento che sono appunto come dicevo le forme di taglio. E per fare le forme di taglio voglio cambiare il colore del livello perché mi torna meglio dal punto di vista diciamo dell'impatto visivo per poter andare a fare quello che vedrete di seguito. Allora questo è il disegno sul piano di lavoro e qui vediamo il tastierino di Elby Key che l'ho utilizzato perché ormai praticamente non è per me diventato veramente indispensabile come strumento di lavoro specialmente quando devo fare molte molti tagli molte modifiche eccetera eccetera quindi andiamo a vedere questo questo video ve lo mando in maniera accelerata e vi spiego un po' di lavorazioni. Allora avvio il video e vediamo che da prima ho iniziato facendo un rettangolo un rettangolo perché cercavo di fare la cosa abbastanza semplice ma non era facile perché come vediamo qua che io vado ad ingrandire ecco vedete che il problema sta in questa parte perché se io avessi utilizzato questo rettangolo in questo modo cosa sarebbe successo? sarebbe successo che questa parte avrei tagliato questo che mi sarebbe caduto perché non è legato con nessun'altra parte per cui avrei tagliato magari in qualche modo così però qui rimane come lo chiamo io orfani ovvero sia non hanno più un qualcosa a cui stare attaccato quindi cosa ho fatto? ho iniziato a lavorare un po' con dei nodi quindi adesso vi faccio vedere come ho fatto questi nodi in questo modo per andare a cercare di effettuare perlomeno in quella parte e adesso qui mi fermo quella parte in modo da eliminare nella parte che ho fatto a destra eliminare il maggior numero di orfani possibili dopodiché ho utilizzato lo strumento, ritorno leggermente indietro, uno lo strumento matita in questo modo vedete che io vado avanti con la matita e faccio questa divisione di questa torta e praticamente adesso vado a fare anche l'ultima parte eccole qua e mi diventano cinque pezzi del disegno quindi ho fatto un puzzle alla rovescia cioè praticamente ho tagliato il disegno del buon Leo vado avanti allora queste, ora fermo un attimo il video e queste sono, queste parti sono fatte in questo modo perché utilizzerò uno strumento che è lo strumento che si chiama forme di taglio che ci mette a disposizione Lightburn andiamo avanti che vediamo appunto come viene utilizzato innanzitutto faccio queste forme e poi le andrò tramite i nodi ad unirle e a separarle cioè separarle nel senso che farò delle forme diciamo a sé stanti e che va, vedete che utilizzo i nodi e con insert, break eccetera la vado a fare anche in questo caso vedete questo qui ve lo mando così vedete riuscite a capire anche cosa sto facendo ecco sto chiudendo un tracciato con questo che è lo strumento di chiudi tracciato con diciamo con tolleranza e chiudo praticamente questo tracciato in modo da poi fare una tagliare il tracciato tramite questa forma che ho creato andiamo avanti ancora con questo video vedrete che adesso io vado a utilizzare appunto quello strumento quindi vado a controllare se la forma è fatta tutta per bene dopodiché si va a diciamo selezionare il tracciato per primo per secondo la forma e poi si va in strumenti e forme di taglio e vedete che questo adesso è separato vedete che non è più collegato con il resto ovviamente lo vado anche leggermente a spostare se non ricordo male no non lo sposto perché prima devo spiegare che devo fare anche perché come avete visto quando io faccio il comando mi sparisce la forma quindi cosa devo fare? devo duplicarla perché la forma mi serve perché utilizzerò delle parti della forma che è una parte questa, una questa, una questa, una questa per andare a fare tutte le altre 5 fette complete andiamo avanti con il video perché appunto l'ho fatto in questo modo per non tediarvi troppo vado in fondo, faccio tutto il resto con le altre e arriviamo in fondo ad aver fatto praticamente tutte le fette e siamo riusciti ad avere le parti separate in questo modo ora come vedete ritorno leggermente indietro ecco vedete che le parti ora sono separate devo fare questi trattini che sono quelli che mi servono per andare a tagliare anche il progetto nelle parti così e li devo duplicarli perché logicamente mi serve un taglio per la parte diciamo sopra, un taglio per la parte sotto andiamo avanti e andiamo a vedere appunto come finisco il tutto ecco vedete finisco il tutto con questi 5 parti in questo modo e adesso ve lo faccio vedere in diciamo lo schermo grande e abbandoniamo questo diciamo questo filmato che stavamo guardando ecco allora un consiglio che do a Leo io per fare prima ho fatto dei tagli abbastanza netti secondo me li devi un po' modificare perché il taglio netto così su un disegno strastagliato forse è abbastanza evidente specialmente anche dipende dal colore con cui vuoi fare questa sagoma perché se questa sagoma come nella fotografia che mi avevi mandato è colorata di scuro i tagli non si vedono se invece utilizzi un legno chiaro e si vede la bruciatura si vede il taglio fatto dal laser per cui secondo me ma è questione dei gusti andrebbe dipinto con o con dell'impregnante molto scuro in modo che si notino di meno i tagli oppure addirittura fatto nero come si vedono spesso anche su quei siti che vendono questi progetti oppure che dove si trovano diciamo gratuitamente di questi progetti allora io penso che il video vi sia piaciuto sia quello che riguarda diciamo l'offset fill ma vi mando il link in descrizione come ve l'ho detto cioè in descrizione sulla scheda come vi ho detto e anche questo penso di aver fatto un bel video me lo dico da solo ogni tanto vi faccio i complimenti anche da solo oltre a quelli che mi fate voi per utilizzare quello strumento che è uno dei tanti strumenti che ci mette a disposizione Lightburn per fare delle cose veramente fatte bene e con diciamo delle tecniche possono essere anche diverse non è detto che questo sia l'unico modo per farlo io utilizzo questo perché utilizzo le forme di taglio le utilizzate anche per il stampa e taglia che vi metto anche questo qua in descrizione nella scheda sopra andate a vedere per capire come si possono fare queste tipi di lavorazione io vi saluto vi chiedo di magari mettere il like come al solito l'iscrizione e la campanellina siete tanti, state crescendo e vabbè andiamo avanti andiamo avanti che non poniamo limiti ai nostri alla provvidenza vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti